E' un incubo terribile, ho sognato di andare indietro nel tempo. Bene, ora sei sano e salvo, e di nuovo nel 1955. 1955? Un momento, Doc, mi stai dicendo che hai costruito una macchina del tempo con una DeLorean? Dovendo trasformare un'automobile in una macchina del tempo, perché non usare una bella automobile? Ehi, McFly! Quella a cui ho lavorato per tutta la mia vita. Ma tu sei mia mamma, mia mamma. 1,21 gigawatt! Che rivalderò indietro nel futuro! Il futuro! No!